Ciao a tutti da Il Salutatore, eccovi qui con i grandissimi Nuzzo e Mi Piace. C'è pure preso quei cognomi, grandioso. Ecco, sono un grande, ecco, grazie. Bravo, sbagliano tutti, bravo. Meno male, è il salutatore, è il salutatore, io sono il salutatore, perciò... Il salutatore si prepara, in effetti si prepara, bravo. Esattamente, allora, vengo anch'io, vengo anch'io. Ecco, perciò, venite anche voi, la presentazione del bellissimo film, oltre bravissimi attori, vi fate ammazzare dai visati. Registi, ecco qua, perciò invitiamo tutti quanti a vedere questo film, vengo anch'io. Bravo! No, 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 no. Ecco, vi è il direttore artistico del nuovo Cinemarklo. Lui dice sempre la verità. Lui dice no, ragazzi, stare a casa. Ecco, ecco, però... Con i vostri figli, salviamo le famiglie. Ecco, non venite, ma venite perché sono straordinari. Ecco la manina del parolatore per tutti e due. e l'altra volta ho aggiustato la manina e la manina anche per te e il salutatore ciao Vimmo Camopresti Voto Cinematica ciao